Che cos'è un trigger per un flash e come si fa a farlo funzionare? Amici, oggi siamo qui in compagnia del meraviglioso, simpaticissimo Flash Godox SK400 seconda versione e del trigger remoto X-Pro-C per un video che mi avete richiesto in tantissimi, cioè siete in quattro che me l'avete chiesto, però abbiate pietà, questo è un canale ancora piccolo per cui per me quattro sono tanti. A proposito, se volete rimediare e non siete ancora iscritti, il bottone iscriviti è subito qui sotto e se attivate anche la campanella siete sicuri di non perdervi i prossimi aggiornamenti. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, sono un fotografo e oggi sono qui con una meravigliosa testa flash da studio di cui vado a farvi vedere il funzionamento abbinata a questo trigger, l'X-Pro-C. Attenzione bene, X-Pro-C dove C sta per Canon, questo trigger esiste nella versione anche per gli altri brand quindi esisterà un X-Pro-N, mi sembra che da poco esista un X-Pro-S, quindi per Nikon e per Sony. Non sono sicuro se esiste per tutti gli altri brand, quindi i vari Pentax Olympus non è garantito che esista. Il flash si può utilizzare lo stesso perché come spero che riusciate a vedere, lo vedremo dopo più nel dettaglio, qui c'è anche la possibilità di utilizzare il sync via USB, quindi se questo non dovesse essere compatibile possiamo comunque usare questo flash utilizzando un altro tipo di trigger, quindi non quello integrato di Godox senza fili e tutto quanto, ma un trigger che funzioni magari via cavo USB o via ricevitore collegato con cavo USB, quindi niente paura. Nel corso del video andrò a mostrarvi quali sono le principali funzioni di questo flash abbinato a questo trigger, quindi che cosa possiamo dire al trigger che vada direttamente ad agire sulla nostra testa flash e vedremo anche come è possibile utilizzarne più di una linkandole e sincronizzandole. Per un risultato molto bello e assolutamente della massima comodità, io mi trovo molto bene con questo trigger. Ovviamente va montato sopra una fotocamera e allo scattare dello shutter della fotocamera partirà il lampo. Io adesso non lo collegherò alla fotocamera perché vi farò vedere solamente il segnale che il trigger manda alla testa flash. Molto bene, come potete vedere noi qui abbiamo il nostro flash e qui abbiamo il nostro trigger. Ora per prima cosa andiamo ad accendere a testa flash. Sentite che non c'è nessun beep perché noi abbiamo il bottone buzz con cui possiamo decidere se deve fare beep quando gli diciamo qualcosa oppure no. Qui sta un pochettino a noi, non c'è un giusto o uno sbagliato. Diciamo che se siamo in esperti può essere comodo sentire il beep ogni cosa che facciamo perché ci dà la conferma che l'azione è stata eseguita. Se siamo un po' più esperti e se siamo in studio con dei clienti o con delle modelle o con gente che conosciamo un po' di meno, io lo toglierei perché comunque diventa fastidioso alla lunga. E veniamo al pezzo forte della giornata, ovvero l'X Pro C. Qui come potete vedere abbiamo due levette. La prima in basso è on off e io vado ad accenderla. La seconda serve per attivare l'assist beam che ci aiuta nel momento in cui stiamo andando a mettere a fuoco. Quindi se stiamo lavorando in un ambiente buio e facciamo fatica possiamo attivare questo e partirà un raggio luminoso da qui sotto, da questa fotocellula che ci aiuterà nella messa a fuoco. Attenzione, sulle mirrorless probabilmente questa componente non funziona, non ha nessun effetto, funziona solo sulle reflex. Ora, cose che dobbiamo sapere sulla nostra testa flash. La nostra testa flash come potete vedere ha un canale. Quindi qui abbiamo il bottone gruppi e canali. Questo bottone serve per decidere che gruppo o canale vogliamo impostare sulla nostra testa flash. Vedete che io posso andare a scegliere una lettera oppure un numero e posso arrivare fino a 9. Quindi ho un po' di lettere e un po' di numeri. Quindi sono veramente tanti canali tra cui scegliere. Diciamo che difficilmente li andrò a impiegare tutti. In questo caso io vado a premere sulla rotella di selezione e quindi lasciamo impostato il gruppo A. Molto bene, a questo punto dobbiamo abbinare il nostro trigger. Quindi andiamo a selezionare il canale A, quindi è già impostato, e andiamo a premere il bottone Mode. Qui possiamo scegliere tra TTL, un'opzione che personalmente non utilizzo mai perché significa che l'esposimetro della fotocamera andrà a decidere l'esposizione e quindi la potenza del nostro flash. A me non piace lavorare in questo modo. Andiamo invece a lavorare in manuale. E vedete che nel momento in cui lo premo, qui è già cambiato e dice esattamente lo stesso valore. Quindi abbiamo potenza 1,8 sul canale A. A questo punto vedete che se io vado a girare la rotella, vedete che i valori cambiano direttamente sul mio flash perché sono già connessi. Così come sono, così come ve li ho fatti vedere, è sufficiente accenderli e sono già connessi e stanno già lavorando insieme. Quindi io qui posso dirgli di andare a lavorare, per esempio, a un quarto di potenza. Ora notate che abbiamo il pulsante test che sta lampeggiando. Perché sta lampeggiando? Adesso io faccio partire un lampo test. Questo qui era un lampo test e vedete che adesso non lampeggia più. Ora notate bene che cosa succede. Nel momento in cui io vario la potenza, vedete l'ho aumentata, è aumentata la potenza, però il mio test non sta lampeggiando. Nel momento in cui invece io vado a diminuire la potenza, ecco che il mio pulsante test comincia a lampeggiare. Questo perché? Perché se io carico il buffer del mio flash con una data potenza, che può essere per esempio un ottavo, se vado a ridurre la potenza, il mio lampo è già stato caricato per una potenza superiore, per cui questo primo lampo flash avrà una potenza maggiore rispetto a quella che ho impostato. Il lampeggiante mi sta dicendo che io dovrei scaricare il mio flash, quindi scattare con un lampo test. A questo punto non lampeggia più perché a questo punto il buffer si ricarica e si ricarica sul valore impostato. Quindi sostanzialmente che cosa ci sta dicendo? Che se io faccio la prima foto avrà una potenza superiore e questo potrebbe farmi credere che la potenza vada bene, invece i lampi successivi avranno una potenza inferiore perché l'ho diminuita e quindi avrò una potenza non corretta per gli scatti successivi. Una cosa molto interessante è che noi qui abbiamo a disposizione più canali, quindi per esempio noi abbiamo abbinato questo primo flash sul canale A, ma io potrei mettere un secondo flash sul canale B e potrei dirgli che deve lavorare in TTL oppure continuando a premere mode, potrei dirgli che vogliamo lavorare in manuale e potrei dargli un valore diverso. Una volta che io ho impostato qui correttamente tutta la mia batteria di flash e a ogni flash ho abbinato il canale corretto, sono in grado di manovrare tutti i miei flash separatamente e direttamente da questo e quindi in sostanza direttamente dalla mia fotocamera perché questo va montato sulla slitta della mia fotocamera, quindi senza bisogno di toccare le teste flash posso modificare la potenza di tutte quante senza più doverle toccare. La potenza gestibile tramite questo trigger va da un centoventottesimo fino a un intero. Ovviamente dipende dalla testa flash che stiamo utilizzando perché per esempio questa testa flash non mi permette di fare un centoventottesimo. Non mi ricordo più qual è la potenza massima che mi consente di fare ma mi sa che è un sedicesimo. Sì, vedete, perché sotto il sedicesimo non ci va. Quindi questa testa flash mi permette di fare fino a un sedicesimo di potenza, sotto il sedicesimo non mi permette di andare. Quindi io posso impostare un trentaduesimo ma qui rimane impostato un sedicesimo. Questa è la tipica cosa che magari su una testa flash più costosa potremmo avere una potenza inferiore. Su questa testa flash arriviamo al massimo a un sedicesimo, però normalmente quando si scatta con le luci flash si usa abbastanza potenza. Io di solito lo uso tra un ottavo e un mezzo, quindi di solito uso mezza potenza o poco meno. Un sedicesimo lo uso molto di rado. Adesso vi faccio vedere una cosa molto carina. Intanto torniamo su mode e spegniamo il canale B che tanto non sta facendo niente. A questo punto andiamo ad attivare la nostra modeling light, ovvero la nostra luce pilota. Io la vado ad accendere. Vedete che quando io vado a premere questo bottone c'è la spia blu che mi avvisa che la luce pilota è attiva e abbiamo la modalità prop che significa proporzionale. Questo significa che la luce pilota ci aiuta, nel senso che la luce pilota sarà più o meno luminosa proporzionalmente a seconda della potenza impostata sul flash. Io ora vado a spegnere la mia luce di studio e vi faccio vedere che cosa intendo. Vedete che nel momento in cui noi abbiamo un ottavo di potenza l'emissione luminosa della luce pilota è questa. Guardate però che cosa succede se noi aumentiamo la potenza. Vedete che siamo a un intero di potenza e l'emissione della luce pilota aumenta proporzionalmente. Se io vado a un sedicesimo l'emissione della luce pilota che vedete sullo sfondo diminuisce. Questa è una cosa molto carina perché significa che sempre da remoto, sempre da distanza, io posso comandare anche la luce pilota se siamo in questa modalità. È un'altra cosa, un'altra feature molto carina che vi segnalo perché può servire dover modificare la luce pilota. Ovviamente tenete conto che in questa modalità se modifichiamo la luce pilota è proporzionale quindi stiamo modificando anche l'effettiva potenza del lampo. Se torniamo a premere il pulsante della luce pilota vedete che a questo punto la luce pilota è ancora accesa però qui scompare la scritta prop e compare un 15%. Questa è la modalità per gestire la nostra luce pilota separatamente dal flash. Infatti vedete che io qui posso modificare la potenza del flash ma il 15% rimane tale. Se io premo la rotella di selezione a questo punto posso andare a modificare solamente la potenza della luce pilota senza modificare la potenza di emissione del mio flash. Questa è una modalità che non si può gestire tramite trigger quindi per fare questa cosa per separare luce pilota e flash bisogna per forza accedere ai comandi della nostra luce. Poco male si fa. Se andiamo nuovamente a premere il bottone della luce pilota ecco che questa volta si spegne. Un'ultima parola per quanto riguarda le modalità S1 e S2. Queste sono le modalità slave. Slave significa schiavo e fondamentalmente è una modalità che trascende il nostro trigger perché quando siamo in modalità slave è un altro flash che comanda lo scatto di questa testa. Quindi riuscite a vedere questo pallino rosso. Questa qui è una fotocellula che riceve il lampo di un altro flash. Se io avessi un altro flash nella stanza e avessi impostato modalità slave 1 S1 in questo momento se io scattassi con un altro flash in questa stanza partirebbe automaticamente un lampo sincronizzato da questo flash. È una modalità che si utilizza quando non si hanno abbastanza canali sul trigger per esempio e quindi si abbinano magari tutti gli altri flash al lampo di un flash master perché non ci sono abbastanza canali per abbinarli tutti e quindi si andrà a regolare la potenza di ogni singolo flash perché poi saranno semplicemente comandati dallo scatto del flash master. È una modalità che a me è capitato di usare anche se non è proprio l'ideale perché comunque nel momento in cui utilizziamo un trigger abbiamo un segnale gestito, abbiamo un segnale che viene inviato direttamente alla testa e che si connette automaticamente. Mentre in modalità slave siamo un po' in balia dell'illuminazione. Se siamo in una stanza dove ci sono altre luci, altri flash, altri effetti stroboscopici abbiamo dei lampi che partono a caso e poi abbiamo un tempo di buffer che non ci permette di scattare quando vorremmo per esempio. Bene amici direi che abbiamo già detto tutto quello che potevamo dire. Secondo me è un bel prodottino, il fatto che si interfacci direttamente con tutte le teste compatibili è tanta roba perché significa niente fili, significa niente ricerche inutili di segnale, significa che si collega da solo, fa tutto da solo, bisogna soltanto abbinare i canali e poi si lavora con la massima serenità. Una nota ulteriore, se vi andate a recuperare il mio video in cui vi parlavo di come mai un flash come questo può toppare non so se riuscite a vedere qui che c'è la fotocellula rossa, questa serve per la modalità slave. Le modalità slave funzionano ovviamente in maniera tale che sia un altro flash a comandare il lampo della nostra testa flash. Quindi io ho uno speed light o anche magari il flash quello direttamente incapsulato sulla nostra fotocamera può anche essere un flash del cavolo, quel lampo può comandare la fotocellula di questo e far partire il lampo di questa. Quindi questo è schiavo, slave significa schiavo, questo qui è schiavo del lampo principale che viene da un altro flash. Però che cosa succede? Se c'è troppa luce, per esempio se lo sto usando in esterna, la luce ambientale può confondere la fotocellula che vedendo tutto chiaro non percepisce più il lampo del flash. In uno studio oscurato come il mio se partisse un lampo flash questa scatterebbe sicuramente, ma in un contesto diverso potrebbe creare problemi. Con questo questi problemi non ci sono perché questo è un segnale che viene inviato direttamente al ricevitore all'interno della nostra testa. Quindi non avremmo il problema di una mancata ricezione. Un'ultima nota personale. Io lo so benissimo che questi utensili di Godox non sono magari il top di gamma che si può trovare sul mercato. Molti di voi mi hanno commentato ma perché non usi Profoto, ma perché non usi Elikrom, ma perché non usi questo, perché non usi quello. Ragazzi, per un motivo semplicissimo. Perché mi trovo bene con Godox. Mi trovo abbastanza bene. Sono molte volte delle componenti più smart, come visto, che si collegano senza nessunissimo problema. Sono plug and play, sono molto molto comode. Sono spesso più leggere, sono quasi sempre più economiche. Ora, io sapete che non sono uno che va a risparmio. Se c'è una cosa bella e una cosa così così, io di solito compro quella bella. Però in questo caso devo dire che avendoli provati entrambi, ho provato i Profoto, ho provato i vari, li ho provati tutti in vita mia, non ho riscontrato così tanta differenza nel risultato finale. Perché semplicemente per andare su un Profoto vuol dire che hai esigenze più alte delle mie. Vuol dire magari che hai bisogno di un flash che ti stia dietro sulla raffica. Io non faccio raffiche, quantomeno in studio. Quindi per me un flash con una capacità di buffer come questo va benissimo. Non mi manca assolutamente niente. Quindi per me non è una rinuncia utilizzare strumentazione Godox. Anzi, mi trovo bene. Ovviamente se avete delle esigenze più alte, state facendo, che ne so, una sfilata di moda con i flash che devono lavorare di continuo, questo non va bene, ma ve lo dico. A quel punto dovete prendervi un Profoto di quelli un pochettino più spinti. Però se state facendo ritratto in studio, still life in studio come faccio io, ma questa va benissimo, va più che bene, funziona benissimo. E la qualità della luce, quindi il prodotto finale, non presenta tutte queste differenze rispetto a una torcia flash molto molto più costosa e molto più professionale. Siamo lì. Quindi per questo motivo io adoro Godox, perché mi offre sostanzialmente lo stesso risultato. Non voglio buttarla sul prezzo dicendo per una cifra inferiore, però è proprio così. A questo punto vi lascio spazio come sempre nei commenti. Fatemi sapere se c'è qualcosa che mi sono dimenticato. Fatemi sapere se c'è qualcosa in più che volete sapere. Ci vediamo come sempre nei commenti, dove ricordatevi che io spesso e volentieri rispondo con dei video verticali, quindi se vi iscrivete siete sicuri di non perderveli. Io e Godox vi salutiamo e vediamo appuntamento al prossimo video. Grazie. Grazie.